il sogno di un uomo ridicolo sono un uomo ridicolo e ora mi danno anche del pazzo potrebbe essere una promozione se per loro non rimanessi comunque un uomo ridicolo ma ora non mi arrabbio più ora li trovo tutti gentili perfino quando ridono di me anzi anzi proprio allora li trovo particolarmente gentili se non mi sentissi così triste guardandoli io stesso mi metterei a ridere con loro non di me ma per piacere loro mi sento triste perché essi non conoscono la verità mentre io sì che terribile peso essere il solo a conoscere la verità ma essi non lo capirebbero no non lo capirebbero prima mi rattristava molto il sembrare un uomo ridicolo non sembrare ma esserlo sono sempre stato ridicolo e lo so forse fin da quando sono nato credo di averlo già saputo fin da quando avevo sette anni sono andato a scuola poi all'università e più studiavo più imparavo che ero ridicolo così che per me tutta la mia erudizione universitaria alla fine esisteva soltanto per dimostrarmi e spiegarmi mentre si accresceva sempre di più che ero ridicolo così come nello studio mi accadeva nella vita col passare degli anni cresceva e si rafforzava in me la coscienza del mio essere ridicolo sotto tutti gli aspetti tutti ridevano di me sempre ma essi non sapevano e non sospettavano che se al mondo c'era un uomo ridicolo che più di tutti era cosciente di esserlo quello ero proprio io e questa per me era la cosa più oltreggiosa il fatto che essi non lo sapessero ma qui la colpa era mia sono sempre stato così orgoglioso di non voler mai e per nessun motivo riconoscerlo con nessuno questo orgoglio è cresciuto in me con gli anni e se mai fosse accaduto che davanti a qualcuno mi fossi permesso di riconoscere quanto ero ridicolo allora subito quella stessa sera mi sarei fatto saltare le cervelle con un colpo di pistola come ho sofferto durante la mia adolescenza pensando che all'improvviso senza riuscire a trattenermi avrei confessato tutto questo ai miei compagni ma da quando sono diventato un giovane uomo sebbene ogni anno di più fossi cosciente della mia orribile peculiarità non so perché sono diventato più tranquillo sì non so perché fino ad ora infatti non sono ancora riuscito a capirlo forse perché nel mio animo cresceva una terribile ansia per un qualcosa che era già infinitamente al di sopra di me e cioè la convinzione ormai acquisita che al mondo niente avesse importanza era da molto che ne avevo il presentimento ma ora me ne sono completamente convinto in quest'ultimo anno a un fatto ho sentito che per me era lo stesso se il mondo esisteva o se nulla ci fosse stato in alcun luogo ho cominciato a sentire e ad accorgermi con tutto il mio essere che vicino a me non c'era niente all'inizio mi sembrava però che molte cose fossero estinte prima ma poi mi sono accorto che non c'era mai stato nulla chissà perché l'avevo pensato a poco a poco mi sono anche convinto che mai nulla esisterà allora ho smesso di arrabbiarmi con la gente e ho cominciato quasi a non considerarla più questo si manifestava perfino nelle minime sciocchezze accadeva per esempio che camminando per la strada urtassi qualcuno e non perché fossi sopra pensiero a che cosa avrei dovuto pensare allora avevo smesso completamente di pensare per me nulla aveva più importanza avesse almeno risolto i miei problemi ma non ne avevo risolto nemmeno uno e quanti ce n'erano ma per me tutto era diventato senza importanza e tutti i miei problemi li avevo rimossi ecco dopo questo ho conosciuto la verità è stato nello scorso novembre e precisamente il 3 di novembre e di allora io ricordo ogni istante era una sera cupa la più cupa che ci possa essere erano le 11 e stavo tornando a casa ricordo esattamente che ho pensato che non vi poteva essere una sera più cupa di quella perfino nell'atmosfera era era piovuto a dirotto tutto il giorno ed era stata una pioggia fredda e cupa perfino minacciosa ricordo era una pioggia chiaramente ostile agli uomini all'improvviso verso le 11 cessò di piovere e calò una terribile umidità il tempo era più umido e più freddo di quando pioveva e da ogni cosa si levava come una nebbiolina da ogni pietra della strada da ogni vicolo se dalla via si scrutava nei vicoli in profondità in lontananza a un tratto mi è perso che se ovunque il gas dei lumini si fosse spento tutto sarebbe diventato più allegro ma il cuore no il cuore sarebbe stato più triste quel giorno non avevo quasi pranzato e fin dalle prime ore della sera era stato a casa di un ingegnere dove c'erano anche altri due amici credo di averli annoiati col mio silenzio l'argomento di cui discutevano era praticamente stimolante tanto che a un certo punto si sono anche un po scaldati ma in realtà a loro non importava molto era evidente che si erano scaldati così tanto per farlo a un tratto dissi loro signori è chiaro che a voi non importa nulla di questo loro non se la presero ma scoppiarono tutti a ridere credo perché l'avevo detto senza alcuna insolenza semplicemente perché mi era del tutto indifferente questo loro lo capirono e la cosa li aveva messi di buon umore quando per strada pensai al gas allora guardai il cielo era terribilmente scuro ma si potevano anche intravedere chiaramente le nuvole squarciate e tra loro chiazze nere senza fine in una di esse notai una piccola stella e prese a fissarla intensamente questo perché quella piccola stella mi aveva suscitato un pensiero decisi di uccidermi quella notte avevo già fermamente deciso due mesi prima e anche se ero povero avevo comprato una bellissima rivoltella che avevo caricato quel giorno stesso ma erano già passati due mesi e la rivoltella continuavo a tenerla nel cassetto per me era tutto così senza importanza che alla fine ho desiderato farlo proprio nell'attimo in cui tutto non mi fosse così indifferente e poi perché non lo so e così in quei due mesi ogni notte tornando a casa pensavo che mi hai sparato io aspettavo sempre quell'attimo ed ecco che ora quella piccola stella mi confermò quella decisione che sarebbe stata sicuramente quella notte perché proprio quella piccola stella mi avesse fatto decidere non saprei dirlo ed ecco che mentre stavo guardando verso il cielo all'improvviso una bambina mi afferrò per un brazzo la strada era già deserta e non c'era quasi più nessuno in lontananza c'era un vetturino che stava dormendo sulla sua carrozza la bambina avrà avuto otto anni era vestita solo di un abitino e aveva un fazzoletto in testa era tutta bagnata ma ciò che ricordo di più sono le sue scarpe rotte e bagnate fradice ancora adesso le ricordo queste mi balenarono agli occhi in modo particolare a un certo punto la piccola cominciò a tirarmi per il brazzo e a chiamarmi non piangeva urlava in modo sconnesso chissà quali parole che non riusciva ad articolare bene poiché tremava tutta presa com'era da piccoli brividi di freddo era terrorizzata e con disperazione gridava mammina mammina voltai il viso verso di lei ma non disse nulla e continuai a camminare lei mi seguì correndo e tirandomi per il braccio nella sua voce potevo sentire quel suono che in molti bambini spaventati è segno di disperazione conosco questo suono sebbene lei non riuscisse a parlare in modo comprensibile io avevo comunque capito che sua madre stava morendo da qualche parte o che da loro era successo qualcosa tanto da farla correre fuori a chiamare qualcuno a cercare qualcosa che potesse aiutare sua madre ma non la seguì anzi mi era all'improvviso venuta l'idea di scacciarla inizialmente le dissi che avrebbe dovuto cercare una guardia ma lei con le manine giunte in segno di preghiera singhiozzando e ansimando mi correva sempre appresso senza lasciarmi andare allora io mi fermai di botto e rigridai contro e la strillò soltanto signore signore ma ecco che non mi tratteneva più e la vidi precipitarsi dall'altra parte della strada dove era spuntato un altro passante lei evidentemente aveva lasciato me per correre verso di lui io salì al mio quarto piano dove abito una camera in affitto presso una signora la mia stanza è piccola e povera ha un finestrino la soffitta semicircolare un divano coperto di tela cerata un tavolo sul quale ci sono dei libri due sedie e una comoda poltrona vecchia e decrepita che però è alla voltaire mi sedetti accesi la candela e mi mise a pensare nella stanza vicina oltre la parete si continuava a far baldori ormai da tre giorni là viveva un capitano in congedo che aveva come ospiti sei tipi buoni a nulla che passavano il loro tempo a bere vodka e a giocare a stoss con un vecchio mazzo di carte la notte scorsa c'era stata una rissa so che due di loro si erano presi per i capelli e si erano azzuffati a lungo la padrona di casa si sarebbe lamentata volentieri se non avesse avuto una terribile paura del capitano gli altri inquilini c'è soltanto una signora piccola e magra moglie di un ufficiale una straniera con tre bambini piccoli già ammalati da quando sono qui sia lei sia i bambini hanno una paura pazza del capitano e passano la notte a trasalire per un non nulla facendoci il segno della croce il bambino più piccolo addirittura ha avuto una sorta di crisi nervosa per la paura so di certo che questo capitano a volte ferma i passanti sul nevski e chiede loro le lemosina in servizio naturalmente non lo riprendono ma per quanto sembri strano è per questo che lo racconto per tutto il mese che abitato qui non mi ha dato alcun fastidio è chiaro che fin dall'inizio ho evitato la sua compagnia ed altronde anche lui fin dal primo incontro non si è particolarmente interessato a me ma per quanto schiamazzino dietro quella parete e per quanti essi siano là dentro per me non ha alcuna importanza tutta la notte sto seduto qui nella mia stanza e non li sento neppure dimentico di loro è già da un anno che di notte non mi addormento che all'alba resto seduto sulla mia poltrona accanto al tavolo e non faccio nulla leggo i libri solo di giorno rimango seduto a non pensare se non per qualche scia di pensiero che mi vaga per la testa e che io lascio libero mentre la candela continua a bruciare quella notte mi sedetti al tavolo silenziosamente presi la rivoltella e la posai davanti a me dopo averla posata ricordo che chiesi a me stesso è così allora in modo assolutamente certo mi risposi è così cioè mi sarei sparato sapevo che proprio quella notte mi sarei certamente ucciso ma per quanto tempo ancora sarei rimasto seduto al tavolo questo non lo sapevo sono sicuro che se non fosse stato per quella bambina io l'avrei certamente fatto vedete sebbene per me tutto fosse senza importanza qualcosa come il dolore per esempio lo sentivo se qualcuno mi avesse colpito l'avrei sentito il dolore e così era naturalmente anche sotto l'aspetto morale se fosse accaduto qualcosa di molto pietoso allora avrei provato della pietà così come quando le cose della vita per me avevano ancora importanza anche poco fa avevo provato pietà sono sicuro che se fosse stato un piccino l'avrei aiutato ma perché non ho aiutato quella bambina per un'idea che mi era venuta in mente in quel momento quando lei mi tirava per il braccio e mi chiamava improvvisamente era sorto davanti a me un problema che non ero riuscito a risolvere era un problema vano ma mi aveva turbato mi faceva rabbia pensare che se ormai avevo deciso di suicidarmi quella stessa notte a questo punto ogni cosa al mondo avrebbe dovuto essere per me priva di ogni importanza più che in qualsiasi altro momento ma perché improvvisamente ho sentito che questo non era del tutto vero e che io avevo avuto pietà per quella bambina sentivo per lei una grande compassione ricordo tanto da provarne uno strano dolore che era perfino incredibile nella mia situazione credetemi non so descrivere meglio la fugace sensazione di quel momento ma quella sensazione continuai ad averla anche a casa quando già seduto al tavolo ero molto irritato come da molto tempo non lo ero più stato un ragionamento seguiva l'altro rendendo alla fine chiaro che se ero un uomo se non ero ancora diventato un nulla allora vivevo e quindi potevo soffrire arrabbiarmi e vergognarmi del mio comportamento e va bene ma se nel giro di due ore mi fossi ucciso per esempio che cosa me ne sarebbe importato allora della bambina della vergogna e di qualsiasi altra cosa al mondo io stavo per diventare nulla un nulla assoluto ma era ormai possibile che la coscienza di non esistere più del tutto e quindi che nulla sarebbe più esistito di me non dovesse avere la minima influenza né sul sentimento di pietà per la bambina né sul sentimento di vergogna per l'azione abbietta commessa ma era ormai possibile che la coscienza di non esistere più del tutto e quindi che nulla sarebbe più esistito di me non dovesse avere la minima influenza né sul sentimento di pietà per la bambina né sul sentimento di vergogna per l'azione abbietta commessa è questo il motivo per cui mi fermai di botto mettendomi a gridare in modo così assurdo contro quella povera bambina in realtà volevo dire che se non solo non provavo pietà ma compivo anche un'azione abbietta e disumana potevo farlo dal momento che nel giro di due o tre ore tutto sarebbe svanito credetemi è per questo che ho gridato e ora ne sono quasi convinto in quel momento mi era chiaro che la vita il mondo dipendevano da me addirittura avrei potuto dire che il mondo stesso adesso era come se fosse stato fatto per me solo sparandomi quindi non sarebbe più esistito il mondo senza pensare che forse effettivamente per nessuno sarebbe più esistito nulla dopo di me e tutto il mondo non appena si fosse spenta la mia coscienza sarebbe subito svanito come un'illusione come qualcosa che esisteva solo nella mia coscienza e sarebbe dileguato poiché forse tutto questo mondo e tutta questa gente non sono nient'altro che me stesso ricordo che mentre me ne stavo lì seduto a ragionare mi ruotavano in testa tutti questi nuovi pensieri che premevano uno dietro l'altro cambiando perfino completamente senso e immaginando cose del tutto nuove a un tratto per esempio mi era nata una strana idea e se fossi vissuto prima sulla luna o su marte e là avessi commesso l'atto più vergognoso e più disonesto che si possa immaginare e là proprio per questo fatto fossi stato oltraggiato e disonorato così come si può percepire e immaginare forse solo in sogno o in un incubo e se poi capitando sulla terra avessi continuato a mantenere la coscienza di ciò che avevo fatto su quell'altro pianeta e avessi anche saputo che ormai là non sarei mai più tornato per nessun motivo allora guardando la luna dalla terra per me sarebbe stato ancora tutto senza importanza oppure no avrei avuto vergogna di ciò che avevo fatto oppure no erano domande inutili e superflue così come la rivoltella posata davanti a me ma io sapevo con tutto me stesso che l'avrei fatto sicuramente eppure queste domande mi mettevano in subbuglio irritandomi mi sembrava di non poter più morire se prima non avessi risolto questa cosa per dire in breve quella bambina mi aveva salvato poiché con tutto quel ragionare avevo rimandato il suicidio il capitano intanto avevano cominciato a calmarsi non giocavano più a carte e li sentivo mettersi a posto per la notte mentre stancamente bofonchiavano qualcosa ed ecco che all'improvviso mi addormentai cosa mai successa prima lì al tavolo seduto in poltrona mi addormentai senza accorgermene i sogni sappiamo sono davvero strani qualcosa magari ci appare straordinariamente chiaro minuzioso come la cesellatura di un orafo su altre cose invece si passa sopra senza notarle neppure come per esempio lo spazio e il tempo credo che i sogni nascono non dalla ragione ma dal desiderio non dalla testa ma dal cuore anche se la mia ragione in sogno si è esibita qualche volta in ingegnosi voli non da poco certo è che in sogno accadono cose del tutto incomprensibili mio fratello per esempio è morto cinque anni fa qualche volta lo sogno egli prende parte alle cose della mia vita siamo molto interessati l'uno all'altro ma intanto durante tutto lo svolgimento del sogno io sono pienamente cosciente che mio fratello è morto e sepolto perché allora non mi stupisco pur sapendolo morto di trovarmelo lì accanto a prendersi cura delle cose della mia vita perché la mia mente accetta tutto questo ma basta ora voglio raccontarvi il mio sogno sì ho fatto un sogno e l'ho fatto in quella notte del 3 di novembre qui si prenderà in giro perché non si tratta altro che di un sogno ma che importanza se si tratta di un sogno oppure no se è stato questo sogno che comunque mi ha mostrato la verità se davvero sei venuto a conoscenza della verità e l'hai vista allora sai che proprio quella è la verità e nessun'altra che si dorma o che si sia svegli e va bene mettiamolo pure è un sogno ma questa vita che viene tanto esaltata io volevo finirla suicidandomi invece il mio sogno il mio sogno esso mi ha indicato una vita nuova grande rinnovata forte ascoltate ho detto prima che mi addormentai senza accorgermene e continuai a meditare su quegli stessi pensieri a un certo punto sognai di prendere la rivoltella e di puntarmela dritta al cuore e non alla testa ma prima avevo deciso che mi sarei sparato di certo alla testa e precisamente alla tempia destra puntai al petto per qualche secondo e la mia candela il tavolo e la parete davanti a me si misero all'improvviso a muoversi lentamente subito sparai il sogno a volte può accadere di precipitare o di essere ammazzati o anche di venire picchiati ma senza dolore se non quando nel letto siamo noi stessi a farci realmente male allora sì proviamo del dolore e a causa di questo quasi sempre ci svegliamo è stato così anche nel mio sogno non ho provato dolore ma mi è sembrato che dopo lo sparo attorno a me ogni cosa sussultasse e improvvisamente spegnendosi del tutto si creasse un terribile buio era come se fossi diventato cieco e muto piacevo disteso e supino su qualcosa di duro senza riuscire a vedere nulla e a fare il minimo movimento sentivo la gente attorno a me che andava e veniva gridando il capitano con la sua voce di basso la padrona di casa con i suoi strilli poi più nulla per un po ma ecco che mi vedo di nuovo sono chiuso in una vara e mi stanno portando via sentivo la vara oscillare e mi soffermavo su questo rendendomi conto così all'improvviso per la prima volta che ero proprio morto morto senza alcun dubbio che non vedevo e non mi muovevo più ma allo stesso tempo sentivo e ragionavo presto mi rassegnavo a questa situazione come di solito avviene nei sogni e ne accettavo la realtà senza discutere ecco che mi sotterravano andavano tutti via e io rimanevo solo completamente solo non mi muovevo nella realtà spesso ho immaginato come mi avrebbero seppellito e ho sempre collegato la tomba solo ad una sensazione di umidità e di freddo così anche ora sentivo molto freddo soprattutto alla punta delle dita dei piedi ma non provavo nient'altro ero lì disteso e stranamente non aspettavo nulla accettando senza discutere il fatto che un morto non poteva certo aspettarsi qualcosa era umido non so più quanto tempo fosse passato un'ora qualche giorno molti giorni ma ecco che sul mio occhio sinistro chiuso cadde una goccia d'acqua filtrata attraverso il coperchio della bara dopo un minuto un'altra poi dopo un terzo minuto un'altra ancora e così via continuando a cadere ad ogni minuto il cuore mi scoppiò una profonda ira tanto da provare un dolore fisico è la mia ferita pensai è per lo sparo lì ho una pallottola la goccia intanto continuava a cadere ogni minuto e dritta sul mio occhio chiuso non lo sopportai più e non con la voce poiché non potevo né parlare né muovermi ma con tutto il mio essere invocai colui che aveva fatto sì che accadesse tutto questo chiunque tu sia se esisti e se esiste qualcosa che abbia più senso di tutto questo allora ti prego fai che avvenga anche qui ma se ti stai vendicando su di me per il mio assurdo suicidio facendomi ora vivere questa orribile insensata situazione sappia allora che nessun tormento potrà mai uguagliare questo disprezzo che proverò in silenzio anche se tutto ciò dovesse durare per milioni di anni dopo questa invocazione d'acqui per quasi un minuto intero ci fu un profondo silenzio mentre un'ennesima goccia mi cadeva ancora addosso ma io sapevo sapevo e credevo immensamente senza alcun dubbio che ora tutto sarebbe sicuramente cambiato e infatti si spalancò la mia bara cioè non so se fosse stata dissotterrata e aperta so solo che un essere scuro e sconosciuto mi prese trascinandomi con sé nello spazio e un tatto aprì gli occhi era notte fonda e mai mai prima di allora avevo visto un tale buio volavamo nell'immensità dello spazio ormai lontani da terra non chiesi nulla a colui che mi guidava attesi orgogliosamente mi convinsi di non aver paura e andai in estasi al pensiero di non averne non ricordo per quanto tempo volammo non riesco neppure immaginarlo tutto accade così come di solito avviene nei sogni quando con un salto si passa sopra tempo e spazio alle leggi della vita e della ragione fermandosi solo su quei punti su cui la propria immaginazione fantastica ricordo che all'improvviso vidi nell'oscurità una piccola stella è sirio lo chiesi senza riuscire più a trattenermi perché non avrei voluto fare alcuna domanda no è quella piccola stella che hai visto in mezzo alle nuvole mentre ritornavi a casa mi rispose lui quell'essere che mi stava trasportando sapevo che avevo un aspetto più o meno umano stranamente lui non mi piaceva anzi provavo perfino un profondo disgusto non mi aspettavo certo che dopo la morte ci fosse un'altra esistenza non era per questo che mi ero sparato al cuore ma ecco che mi trovavo nelle mani di un essere che naturalmente non era umano ma che comunque c'era esisteva dunque anche dopo la morte si continua ad esistere pensai con la strana agevolezza del sogno ma la vera natura del mio cuore rimaneva in me in tutta la sua profondità se devo di nuovo esistere pensai e di nuovo vivere per l'inevitabile volontà di qualcuno allora non voglio che questo avvenga per essere sconfitto e umiliato tu sai che ho paura di te ed è per questo che mi disprezzi disse il mio compagno di viaggio senza riuscire a trattenermi del fare quell'affermazione avvilente che conteneva la mia confessione e sentendo in cuor mio come una puntura di spillo un dolore umiliante non rispose alla mia domanda ma ad un tratto capì che nessuno mi disprezzava e nessuno rideva di me o mi commiserava e che il nostro viaggio aveva uno scopo sconosciuto e misterioso che riguardava solo me la paura cresceva nel mio cuore qualcosa di muto e angoscioso si trasmetteva dal mio compagno a me come se volesse penetrarmi volevamo attraverso ignoti spazi bui ero ormai da molto tempo che non vedevamo più le costellazioni a noi note sapevo che negli spazi celesti ci sono alcune stelle da cui i raggi impiegano migliaia e milioni di anni per arrivare alla terra forse noi stavamo già volando in questi spazi e ero lì che aspettavo qualcosa preso come ero da un'ansia snervante che mi attanagliava il cuore ma ecco che fui scosso all'improvviso da qualcosa di molto familiare ed estremamente invitante vidi il sole sapevo che quello non poteva essere il nostro sole quello che aveva dato origine alla nostra terra e che eravamo infinitamente lontani da esso ma non so perché ero sicuro con tutto il mio essere che quello era uguale al sole che conoscevo una copia un sosia di esso un sentimento dolce e invitante fece sobbalzare d'entusiasmo la mia anima l'intima forza della luce di quella stessa luce che mi aveva generato si mostrava il mio cuore resuscitandolo io sentì la vita la mia vita precedente per la prima volta dopo la morte ma se questo è il sole se è proprio il nostro sole esclamai io dov'è allora la terra quell'essere mi indicò una piccola stella che brillava nell'oscurità splendente come uno smeraldo noi volevamo dritti verso di essa ma è mai possibile che possano esserci simili copie nell'universo è mai possibile una simile legge naturale se quello laggiù è la terra come può essere la nostra terra esattamente uguale infelice povera ma tanto cara ed eternamente amata che ha fatto nascere anche nei suoi figli più ingrati un uguale doloroso amore verso di sé gridai sconvolto da un irresistibile entusiastico amore verso la terra natia che avevo lasciato l'immagine della povera bambina che avevo offeso mi ritornò alla mente vedrai tutto rispose il mio compagno ma in queste parole io sentino so quale tristezza ormai ci stavamo avvicinando velocemente al pianeta vedevo ingrandirsi sempre di più entra vedevo già l'oceano e contorni dell'europa ma stranamente si se nel mio cuore un sentimento di grande sacra gelosia com'è possibile che esista una simile copia perfetta e perché io amo e posso soltanto amare quella terra che ho lasciato sulla quale sono rimasti gli schizzi del mio sangue quando io ingrato sparandomi al cuore ho distrutto la mia vita ma mai mai ho smesso di amare quella terra e perfino quella notte separandomi da essa forse l'amavo ancora più dolorosamente che in qualsiasi altro momento esisterà il tormento su questa nuova terra sulla nostra terra noi riusciamo ad amare veramente solo soffrendo non siamo capaci di amare in altro modo e non conosciamo altro amore io ho bisogno di soffrire per amare io voglio e desidero lasciare subito ora con le lacrime agli occhi soltanto quell'unica terra che ho abbandonato e non voglio non accetto di vivere su nessun'altra ma il mio compagno di viaggio mi aveva lasciato a un tratto del tutto inaspettatamente mi sono trovato su quest'altra terra nella suggestiva luce di una magnifica giornata piena di sole sembrava un paradiso dovevo essere su una di quelle isole che compongono l'arcipelago greco un qualche luogo sulla riviera del continente vicino a questo arcipelago ogni cosa era esattamente come sulla nostra terra ma tutto sembrava splendere ovunque festoso e di una grande sacra e finalmente raggiunta solennità il carezzevole mare color smeraldo si frangeva dolcemente sulle rive fiorandole con un amore lampante indiscutibile quasi consapevole alberi alti e stupendi si innalzavano in tutta la magnificenza del loro colore e le tante piccole foglie ne sono convinto mi salutavano con un brusio quieto e delicato sembrava quasi che mi visbigliassero parole d'amore l'erbetta risplendeva di fiori odorosi dai vividi colori gli uccellini a stormi volavano nell'aria e senza timore e mi si posavano sulle spalle e sulle mani sentivo fremere gioiosamente su di me le loro alucce tenere e tremolanti finalmente vidi e conobbi la gente che abitava felicemente quella terra e si vennero da me mi circondarono e mi baciarono i figli del sole i figli del loro sole come erano belli non avevo mai visto da noi tanta bellezza in un essere umano forse soltanto nei nostri bambini quando sono ancora molto piccoli è possibile trovare un remoto per quanto deboli riflesso di tale bellezza gli occhi di quella gente felice brillavano vivaci nei loro volti piani di intelligenza si notava una specie di tranquilla e completa consapevolezza ma erano volte allegri nelle parole e nelle voci di questa gente risuonava una gioia fanciullesca subito fin dalla prima volta che posai lo sguardo sui loro volti io capii tutto questa terra non era stata profanata da alcuna colpa e le persone che ci vivevano non avevano peccato essi vivevano in un paradiso simile a quello nel quale avevano vissuto secondo le tradizioni dell'intera umanità e così anche per i nostri progenitori che però caddero nel peccato la sola differenza era che qui tutta la terra era ovunque un unico paradiso questa gente mi si stringeva attorno ridendo serena e colmandomi di carezze mi portavano con loro e ognuno voleva tranquillizzarmi essi non mi chiesero nulla ma sembrava che sapessero già tutto e volessero allontanare il più presto possibile la sofferenza del mio volto dunque cosa ne dite d'accordo è stato solo un sogno ma quella sensazione d'amore di quelle persone pure e meravigliose la ricorderò per sempre e io sento che anche ora da lassù il loro amore si riversa su di me li ho visti io stesso li ho conosciuti sono convinto di quello che vi dico perché li ho amati e ho anche sofferto per loro certo avevo capito subito perfino allora che in molte cose non li avrei del tutto compresi a me un qualsiasi progressista russo contemporaneo e ripugnante pietro burghese sembra illogico il fatto per esempio che essi pur sapendo molte cose non conoscevano la nostra scienza capì presto che la loro conoscenza era completa e alimentata da cognizioni diverse dalle nostre sulla terra e che anche i loro desideri erano completamente differenti essi non ambivano nulla ma erano sereni non aspiravano alla conoscenza della vita così come vi aspiriamo noi perché la loro vita era totale il loro sapere era più profondo più alto della nostra scienza al momento che la nostra scienza tenta di spiegare cos'è la vita fa tutto il possibile per comprenderla per poi insegnare agli altri a vivere e si erano in grado di vivere anche senza la scienza questo lo capì bene ma non riuscivo a intuire quali fossero le loro cognizioni mi mostravano i loro alberi e non riuscivo a percepire il grado d'amore con cui essi li guardavano guardavano nello stesso modo anche i loro simili credo di non sbagliarmi se vi dico che essi parlavano con gli alberi sì essi avevano scoperto il loro linguaggio e sono convinto che gli alberi rispondevano loro guardavano così tutta la natura che li circondava e gli animali i quali vivevano con loro pacificamente senza aggredirli poiché li amavano sopraffatti dal loro stesso amore mi mostravano le stelle e mi parlavano di esse ma con argomenti che non riuscivo a comprendere sono certo che essi erano in contatto con gli astri celesti e non solo con la mente ma in modo diretto quella gente non insisteva nel farsi capire da me essi mi amavano comunque sapevano però che anche loro non avrebbero mai compreso me e per questo non ho quasi mai parlato della nostra terra baciavo davanti a loro il suolo su cui essi vivevano e senza dirlo li adoravo la gente vedendomi così mi concedeva questa adorazione senza vergognarsene poiché anche essi sapevano amare molto non soffrivano per me quando in lacrime a volte baciavo i loro piedi perché sapevano gioiosamente in cuor loro con quale forza d'amore mi avrebbero risposto talvolta mi chiedevo con meraviglia come potessero non offendere mai uno come me e non detestare nemmeno una volta in uno come me sentimenti di invidia o di gelosia molte volte mi domandavo anche come mai io fanfarone bugiardo non parlassi mai loro del mio sapere che essi naturalmente non conoscevano affatto non fosse altro per amor loro non perché desiderassi stupirli con esso erano allegri e pieni di brio erravano per i loro bellissimi boschi e boschetti cantavano le loro bellissime canzoni e si nutrivano di cibo fresco la frutta degli alberi il miele dei boschi e il latte dei loro affettuosi animali per mangiare e vestirsi lavoravano poco e facevano lavori facili e leggeri facevano l'amore i bambini nascevano ma non ho mai notato in loro gli impeti di quella violenta sensualità da cui è affetta la maggior parte della gente sulla nostra terra e che è pressa poco l'unica fonte di tutti i peccati dell'umanità essi erano felici dei figli che nascevano perché avrebbero diviso con loro la gioia di vivere non litigavano non erano gelosi l'uno dell'altro e non capivano neppure che cosa ciò volesse dire i loro figli erano i figli di tutti perché tutti insieme formavano un'unica famiglia non conoscevano quasi le malattie e che anche loro morissero ma i vecchi morivano serenamente come se si addormentassero attorniati dalla gente che veniva a dare l'ultimo saluto con il sorriso sulle labbra benedicevano i loro cari che a volte rispondevano con radiosi sorrisi davanti a questo non vidi mai né dolore né lacrime ma soltanto amore che aumentava sempre più fino all'estasi un'estasi serena completa meditativa si poteva persino pensare che essi continuassero a comunicare con i loro vecchi anche dopo la morte e che l'armonia terrestre fra loro non venisse a mancare neppure morendo non riuscivano quasi a capirmi quando chiedevo loro della vita eterna ma si vedeva che essi erano inconsciamente così certi di essa che per loro non costituiva un problema non avevano luoghi di culto ma in loro c'era un essenziale viva e continua armonia con l'insieme dell'universo non avevano una fede ma erano fermamente persuasi che quando la loro felicità terrena fosse terminata sarebbe iniziata per loro vive o morti che fossero una comunicazione ancora più grande con l'universo intero e si aspettavano questo momento con gioia senza aver fretta senza angosciarsi per esso anzi parlandone tra loro come se ne avessero già dei presentimenti nel cuore la sera prima di andare a dormire amavano comporre dei cori armonici e melodiosi in questi canti descrivevano tutte le sensazioni che aveva suscitato in loro il giorno appena finito lo celebravano congedandosi da esso celebravano la natura la terra il mare i boschi componevano anche canti gli uni per gli altri lodandosi come bambini erano canzoni molto semplici ma sgorcavano dal cuore e lo penetravano questo non accadeva solo nelle canzoni sembrava che passassero tutta la loro vita a dir bene l'uno dell'altro era una specie di innamoramento totale e collettivo alcuni di questi canti solenni e appassionati stentavo a comprenderli anche se ne capivo le parole non riuscivo però a impadronirmi del significato questo sembrava essere inaccessibile alla mia mente anche se però sempre più inconsciamente penetrava nel mio cuore spesso dicevo loro che tutto questo l'avevo previsto già da molto tempo che tutta questa felicità e questa gioia le avevo già percepite sulla nostra terra come una malinconia che qualche volta diventa un'insopportabile pena che avevo avuto il presentimento di tutti loro e della loro gloria nei sogni del mio cuore e della mia mente e che spesso sulla nostra terra non riuscivo a guardare senza versare delle lacrime il sole che tramontava che il mio odio per i miei simili l'avevo sempre celato nella pena perché non potevo odiarli se anche non li amavo perché non potevo non perdonarli nel mio amore per loro vi era una struggente malinconia perché non potevo amarli senza odiarli essi mi ascoltavano e io vedevo che non riuscivano a rendersi conto di ciò che dicevo ma non mi dispiacque di averne parlato sapevo che loro comprendevano tutta la forza della mia sofferenza per quegli uomini che avevo lasciato sì quando essi mi guardavano con quell'affettuoso sguardo pieno d'amore quando sentivo che dinanzi a loro anche il mio cuore diventava altrettanto pure sincero allora non mi ricresceva più di non riuscire a capirli una sensazione di pienezza di vita mi faceva mancare il respiro e silenziosamente li adoravo ora tutti mi guardavano e ridevano assicurandosi che non è proprio possibile fare un sogno così particolarizzato come quello che sto descrivendo che nel mio sogno ho semplicemente vissuto una sensazione prodotta dal mio cuore delirante mentre i particolari li ho creati io dopo essermi svegliato quando ho rivelato loro che forse è stato proprio così dio come sono scoppiati a ridere e quali manifestazioni di umorismo ho suscitato in loro beh certo ero stato sopraffatto dalla sensazione di quel sogno solo essa era rimasta intatta nel mio cuore ferito a sangue ma le immagini le forme del mio sogno cioè quelle che io avevo realmente visto erano così piene di armonia così affascinanti e meravigliose erano talmente vere che dopo essermi svegliato non essendo capace purtroppo di render loro giustizia con le mie misere parole per non farle svanire dalla mia mente forse sono stato costretto inconsciamente a inventarmi poi dei particolari deformando così le immagini originali ma il mio desiderio di comunicarle era talmente forte e appassionato che in qualche modo dovevo raccontarle d'altronde come avrei potuto non credere che tutto ciò esistesse forse anche mille volte meglio ancora più luminoso e felice di quanto raccontassi ammettiamo pure che fosse un sogno ma tutto ciò non poteva non esistere sapete vi rivelerò un segreto probabilmente il mio racconto non è stato affatto un sogno poiché qui è accaduto qualcosa di così straordinariamente vero per rendere impossibile sognarselo ipotizziamo invece che il sogno fosse frutto del mio cuore delirante ma in tel caso esso da solo sarebbe stato capace di dare vita a quella terribile verità che mi è poi accaduta come avrei potuto inventarla da solo oppure farla scaturire dal mio cuore è mai possibile che il mio miserabile cuore e la mia insignificantemente capricciosa abbiano potuto elevarsi fino a tale rivelazione della verità oh gedicate voi fino a questo momento l'ho tenuto nascosto ma ora vi dirò tutta la verità il fatto è che io finì per corromperli tutti sì sì è finita che li ho corrotti tutti come abbia mai potuto farlo non lo so anche se lo ricordo chiaramente il mio sogno passò velocemente attraverso i millenni lasciando in me solo la sensazione della sua universalità so soltanto che sono stato io a causare la loro caduta nel peccato come una brutta trichina come un bacillo di peste che contagia interi stati così anch'io contagiai quella terra felice e innocente essi impararono a mentire incominciarono ad amare la menzogna e a conoscerne la bellezza questo forse cominciò innocentamente per scherzo per civetteria per un gioco d'amore o forse veramente da un bacillo un bacillo di menzogne che si insinuò nei loro cuori dando loro piacere dopodiché nacque la sensualità la sensualità di origine alla gelosia e la gelosia alla crudeltà non so non ricordo ma presto molto presto fu sparso il primo sangue essi si stupirono ed ebbero paura cominciarono così i contrasti e le discordie nacque le coalizioni ma degli uni contro gli altri cominciarono i rimproveri e le critiche essi conobbero la vergogna e ne fecero una virtù prese vita l'idea dell'onore e ogni coalizione issò la propria bandiera si misero poi a tormentare gli animali e gli animali si allontanarono nei boschi diventando i loro nemici cominciò la lotta per la divisione per la segregazione per la persona per il mio e per il tuo essi cominciarono a parlare lingue diverse conobbero il dolore che diede loro piacere desiderarono soffrire poiché dicevano la verità si ottiene solo soffrendo allora tra loro comparve la scienza quando divennero cattivi cominciarono a parlare di fratellanza e di umanità comprendendone i concetti quando diventarono criminali allora istituirono la giustizia e si imposero interi codici per difenderla e per garantire l'osservanza dei codici inventarono la ghigliottina ricordavano appena ciò che avevano perso e addirittura non volevano credere che c'era stato un tempo in cui erano stati innocenti e felici ridevano perfino nella possibilità di questa loro precedente felicità considerandola un sogno essi non riuscivano più neppure a immaginarsela in forme e concetti ma per quanto possa sembrare strano e meraviglioso dopo aver perduto ogni fede nella loro felicità di un tempo dopo averla definita una favola essi desideravano ancora di nuovo essere innocenti e felici tanto da prostrarsi come bambini davanti al desiderio del proprio cuore lo divinizzarono costruirono templi e furono devoti alla loro stessa idea al loro stesso desiderio pur sapendo pianamente quanto fosse irrealizzabile inattuabile venerarono con le lacrime agli occhi e si inchinarono davanti ad esso tuttavia solo fosse potuto accadere di ritornare a quello stato di innocenza e di felicità che avevano perso o se qualcuno all'improvviso lo avesse mostrato loro di nuovo chiedendo vorreste ritornarvi adesso bene avrebbero certamente rifiutato rispondevano sì è vero siamo bugiardi cattivi e ingiusti ma lo sappiamo e piangiamo per questo soffriamo e ci tormentiamo per questo punendoci forse perfino più di quanto farebbe un giudice clemente di cui non conosceremmo neppure il nome ma noi possiamo avvalerci della scienza e attraverso di essa ritrovare in modo consapevole la verità la conoscenza è superiore al sentimento e la coscienza della vita è superiore alla vita stessa la scienza ci darà la saggezza la saggezza si aprirà alle leggi e la conoscenza delle leggi della felicità è superiore alla felicità ecco che cosa dicevano e dopo tali parole ognuno amò solo se stesso più di tutti gli altri e d'altronde non potevano ormai fare altrimenti ognuno di loro diventò così geloso della propria personalità che si affannò in tutti i modi a sminuire e a sottomettere quello altrui facendone il presupposto di tutta la loro propria vita apparve la schiavitù perfino la schiavitù volontaria i deboli si sottomisero di buon grado ai più forti solo per essere aiutati a opprimere coloro che erano ancora più deboli apparvero i giusti che andavano da quella gente con le lacrime agli occhi e che parlavano della dignità dell'equilibrio dell'armonia smarrita e della perdita della vergogna essi venivano derisi o lapidati fu versato sangue santo sulle soglie dei templi comparvero però degli uomini che si misero a ideare come unirsi di nuovo tutti insieme affinché ognuno senza smettere di amare se stesso più di tutti gli altri allo stesso tempo non desse alcun fastidio per vivere così insieme in una società in cui tutti andavano d'accordo in seguito a questa idea scoppiarono vere e proprie guerre coloro che combattevano credevano fermamente che la scienza la saggezza e l'istinto di autoconservazione alla fine avrebbero obbligato l'uomo a unirsi in una società solidale e ragionevole intanto però per affrettare gli avvenimenti i saggi si fezzano in quattro per annientare al più presto i non saggi e tutti quelli che non comprendevano la loro idea in modo tale che essi non potessero ostacolarne la vittoria ma l'istinto di autoconservazione cominciò velocemente a scemare vennero fuori i superbi e i lusturiosi che esigevano apertamente o tutto o niente per procurarsi il tutto si ricorreva alle malefatte e se non avevano fortuna al suicidio spuntarono delle religioni che si fondavano sul culto del non essere e dell'autodistruzione per amore dell'eterna pace nel nulla infine questi uomini si stancarono di un compito così assurdo e sui loro visi apparve la sofferenza essi proclamarono che la sofferenza è bellezza poiché solo in essa vi è pensiero osannarono la sofferenza nei loro canti io vagavo fra quegli uomini torcendomi le mani e piangendo per loro ma li amavo forse ancora più di prima quando sui loro visi non vi era ancora traccia di sofferenza ed essi erano meravigliosamente innocenti io cominciai ad amare maggiormente quella terra che essi avevano profanato più di quanto era paradisiaca solo per il fatto che anch'essa ormai conosceva il dolore o me io ho sempre amato il dolore e la sofferenza ma per me per me soltanto piangevo per questi uomini e ne avevo pietà tendevo verso di loro le braccia e disperandomi accusavo maledicevo e biasimavo me stesso dicevo loro che la colpa di tutto era solo mia mia e di nessun altro perché ero io che avevo portato tra loro la corruzione il contagio e la menzogna io li sconduravo di punirmi sulla croce e insegnavo loro come costruire una croce non ci riuscivo non avevo la forza di uccidermi con le mie mani ma volevo che mi torturassero volevo subire i peggiori supplizi desideravo che il mio sangue fosse versato in questi tormenti fino all'ultima goccia ma non fecero che ridere di me considerandomi alla fine semplicemente un povero pazzo essi mi giustificavano dicendo di avere ricevuto da me solo quello che essi stessi desideravano e che tutto ciò che stava accadendo ora non sarebbe potuto non accadere alla fine mi spiegarono che stavo diventando pericoloso per loro e che se non avessi taciuto mi avrebbero messo in un manicomio allora una terribile pena irruppe nel mio animo pervadendolo con tale forza da tanagliarmi il cuore per l'angoscia che provavo tanto che mi sembrò di morire ma ecco che qui sì proprio a questo punto io mi svegliai era già mattina ancora non aveva albeggiato ma erano quasi le sei mi svegliai dalla mia poltrona la candela si era consumata completamente il capitano dormivano e tutto attorno nell'appartamento c'era uno strano silenzio mi alzai di scatto e fui preso da un enorme stupore non mi era mai successo nulla di simile perfino per le inerzie per i più piccoli dettagli per esempio non mi era ancora mai capitato di addormentarmi così sulla mia poltrona all'improvviso mentre ero lì in piedi e cercavo di riprendermi ecco mi vide davanti la rivoltella pronta e carica ma in un attimo l'allontanai da me ora volevo solo vivere vivere ansai le mani verso il cielo e pregai per la verità eterna no non pregai piansi entusiasmo un immenso entusiasmo mi rese forte come un gigante decisi che avrai vissuto per predicare lo decisi proprio in quel momento e fu sicuramente per tutta la vita sarei andato a predicare volevo predicare che cosa la verità perché io l'avevo vista l'avevo vista proprio con i miei occhi e in tutta la sua gloria da allora io vado predicando inoltre amo coloro che ridono di me più di tutti gli altri non so perché non so spiegarmelo ma è così dicono di me che già ora sono un po perso e se già ora è così che cosa accadrà dopo sì è vero sono confuso e dopo forse sarà ancora peggio sicuramente mi accadrà ancora qualche volta di perdermi finché non mi renderò ben conto di cosa sto predicando cioè con quali parole con quali atti perché non è facile eseguire questo compito tutto questo mi è perfettamente chiaro ma ditemi chi non si è mai perso noi tutti siamo diretti verso un punto ben preciso o almeno tentiamo di farlo dall'uomo più saggio all'ultimo dei criminali solo che scegliamo strade diverse questa è una vecchia verità ma ora c'è qualcosa di nuovo io non posso perdermi più di tanto perché io ho visto la verità ho visto e so che gli uomini possono essere belli e felici senza perdere la capacità di vivere in terra io non voglio non posso credere che il male per gli uomini sia la normalità purtroppo loro non fanno che ridere di questa mia fede ma come posso non crederci e ho visto la verità non me la sono inventata l'ho vista l'ho vista e la sua immagine vivente ha colmato la mia anima per sempre l'ho vista con una tale completa integrità che non posso credere che essa non esista dunque come faccio a perdermi devierò certo anche più di una volta e forse parlerò persino con parole non mie ma questo non sarà per molto l'immagine viva che io ho visto sarà sempre in me magari riprendendomi se è necessario ma indirizzandomi sempre verso la retta via io sono forte e giovane e camminerò camminerò anche per mille anni ancora sapete all'inizio volevo perfino nascondere che li avevo corrotti tutti ma sarebbe stato uno sbaglio ecco già il primo sbaglio ma la verità mi ha fatto intuire che avrei mentito mi ha protetto guidandomi rettamente ma com'è possibile ricreare un nuovo paradiso non lo so non so dirlo a parole dopo il mio sogno ho perso la parola o almeno tutte le parole importanti quelle più necessarie ma va bene lo stesso inizierò il viaggio e parlerò sempre senza stancarmi mai perché io ho visto con i miei occhi anche se non riesco a raccontare bene ciò che ho visto ma è proprio questo che chi ride di me non capisce è stato un sogno un delirio un'allucinazione ma davvero mi sembra saggio dire questo un sogno ma che cos'è un sogno la nostra vita non è forse un sogno dirò di più va bene ammettiamo pure che questo non si realizzi mai e che il paradiso non esista vedete questo io lo so beh io continuerò comunque a predicare nel frattempo è così semplice in un solo giorno in una sola ora tutto si rimetterebbe subito in ordine la cosa principale è ama gli altri come te stesso ecco che cosa è importante ed è tutto non occorre proprio nient'altro sarebbe subito possibile mettere tutto in ordine ma questa è soltanto una vecchia verità ed è stata ripetuta e letta un miliardo di volte ma che non ha messo radici la coscienza della vita è superiore alla vita la conoscenza delle leggi della felicità è superiore alla felicità ecco contro cosa bisogna lottare e lo farò se soltanto tutti lo vorranno ogni cosa andrà al suo posto in un attimo a proposito quella bambina l'ho poi ritrovata e camminerò e camminerò grazie a tutti